Partiti cavalli della Tris, quartè quittè, settima corsa del pomeriggio a Capannelle. Con il grigio Fast Money che percorre corsie un pochino più larghe, ancora Secret Garden in pancia al gruppo. Questo è lo schieramento degli undici partecipanti con Bravo Donald in genero vantaggio, una fascia più centrale e esterna della corsa. The Beach invece è stabile al centro della pista, all'interno c'è Fast & Elegant, in seconda corsia agisce anche la stessa Sveva Spirit. Don't Tom Meran invece va per corsie più interne, stessa cosa in To The Wild, lo stesso Kaed. Comunque c'è un ampio ventaglione quando mancano 400 metri da percorrere, Bravo Donald allo steccato opposto. Fast & Elegant è leggero vantaggio con il suo interprete che si guarda all'esterno, Kaed che si impegna all'interno, stessa cosa Zacca Strada. Ha trovato un buon barco Sveva Spirit che adesso produce lo scatto con i cavalli all'interno che sembrano predominanti anche se Kaed è leggero vantaggio nei confronti di Sveva Spirit. Ci prova anche Zacca Strada dall'interno, Zacca Strada che dà l'attacco a Kaed e Sveva Spirit, questi tre, ma alla fine Sveva Spirit emerge nei confronti di Kaed. Poi per il terzo Zacca Strada e ancora Bravo Donald, da rivedere il tutto per il Quintè. Vittoria, vittoria andata la femmina di tre anni Sveva Spirit che dall'esterno ha prodotto la sua accelerazione, Kaed ci aveva provato, era passato anche il leggero vantaggio, ma alla fine si è piantato. Stava per subire la ripartenza di Zacca Strada, sua volta è ripartito, ma alla fine le folate migliori sono state quelle di Sveva Spirit e Germano Marcelli, doppio per lui in giornata. Sette al primo posto, dieci al secondo, nove al terzo, uno al quarto, undici al quinto. Questo è l'ordine d'arrivo ufficioso numerico della Tris Quartè Quintè. Ricordiamo che Sveva Spirit, allenata da Giuseppe Di Chio per i colori di Aristide Lazzoni, aveva una quota di 20,89. Quindi si chiude con una mega sorpresa. La Tris Quartè Quintè di giornata, sette al primo posto, dieci al secondo, nove al terzo, uno al quarto, undici al quinto, sette dieci nove, uno undici. È l'ordine d'arrivo ufficioso probabile della Tris Quartè Quintè di oggi. Ricordiamo che c'era anche un riporto jackpot. Un po' di sfortuna per quelli all'interno. Finita così comunque la giornata da Capannelle, l'ultima giornata di corse in erba. Grazie a tutti.